Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui su questo server per dirvi delle cose questo video ha un video di scuse riguardo a un mio amico, a un mio caro amico secondo me questo mio amico è blackwolf4316 e praticamente ieri è successo un disguido fra me e lui che praticamente lui ha fatto io il video sulla custom map che avevamo fatto insieme dove lui aveva lavorato, aveva fatto diciamo un po' le cose, aveva fatto diciamo molte cose di meglio avevo fatto infatti solamente le mura e le torri e poi gli avevo usato a riempire le ceste di cose quindi diciamo che appunto il più del lavoro l'aveva fatto lui e niente, ieri lo stavo facendo con lui e io mi sono arrabbiato con lui perché io ho detto io pensavo che lui di me non l'avesse mai parlato non l'avesse mai parlato di me che pure io l'avevi dato a fare quel minimo di cose che l'avevi dato a fare e io quindi pensavo che lui non l'avesse parlato niente di questa cosa e quindi me la sono come la diciamo me la sono presa un po' con lui e quindi dopo abbiamo diciamo distrutto la custom map non capisco il motivo perché io sono un abbo sono un abbo punto e basta quindi l'ammetto quindi mi scuso di nuovo con te BlackWolf4316 mi dispiace molto della cosa che è successa tra ieri fra me e te e quindi niente e già so come diciamo cosa ti posso fare per diciamo per pareggiare diciamo questo conto fra me e te e quindi credo che oggi riuscirò a fare quelle cose che mi ha chiesto e quindi niente ti volevo solamente dire scusami non volevo per quel video che c'era stato ieri tra me e te mi dispiace molto e niente appunto questo video l'avevo fatto solamente perché era riferito a me cioè questo video era per te tutti scusi per te come ti avevo già detto dal messaggio di stamattina mi sembra si e niente ti volevo dire solamente questa cosa adesso tu mi vedrai che sto giocando tu forse mi dirai ma come ha detto che mi fa un video di scusa e lui mentre mi fa il video di scusa e sta giocando eh eh no BlackWolf sto facendo questo video giusto perché hai diciamo i nostri pochi spettatori niente così almeno non ti annoiano guardando solamente il mio ondesk vi faccio vedere un po' pure vi faccio conoscere intanto pur un po' questo server quindi sappi che mi dispiace molto per la cosa che è successo ieri e niente spero che rimarra il mio amico che la nostra serie continuerà ad andare avanti e niente solamente questo e ti auguro un buon proprio seguimento per la tua custom map che stai facendo in single player dopo ovviamente io la proverò e io credo che farò per te pure una custom map apposta fatta per te solamente per te quindi dopo a parte questo video farò pure una custom map o una crazy map non lo so con un parkour apposta per te quindi sempre per le scuse di questo disguido diciamo che c'è stato tranne i due ieri quindi niente solamente questo ti voglio dire solamente questa cosa che per me è molto importante perchè comunque sinceramente preferisco che finiamo la serie ma che non perdo un amico quindi non so tu come la pensi però io la penso così quindi niente ho fatto questo video di scuse solamente per dirti queste cose e niente adesso finisco un attimo questa partitina che sono a 12 kill mentre sand è a 18 kill giusto c'era un tizio e sono morto sono al terzo posto ah ragazzi molto probabilmente in descrizione lascerò il ip pure di questo server lascerò in descrizione il ip di questo server perchè comunque diciamo che in questo server ci sono tipo the younger games che si sviluppano diciamo con questa zappa che viene usata come una pistola poi man mano che si va avanti si guadagnano ogni volta più cosi più coin e niente diciamo che questo gioco funziona così quindi ho fatto due anger game su questo server dove ero arrivato due volte secondo ho aperto sempre con la stessa persona e quindi niente ok va bene dai non fa niente ecco ha vinto in questa mappa cascata ha vinto sland r3 come potete vedere adesso ci sono i fuochi d'artificio vicino a sland che non so dove si eccolo qui ora faccio congratulazioni vabbè niente congratulazioni questo server ragazzi è così si va qui a questo punto come potete vedere si sceglie uno dove vuole andare si clicca con il sasso destro e si entra nella cosa poi qui c'è pure un piccolissimo mini parkour diciamo che vedete che si svolge qui così fa tutto il giro poi va sopra va sopra va sopra fino ad arrivare lì ecco fatto e niente poi c'è pure l'arena pvp poi c'è qui non so che cosa sia che vedete qui c'è un tutorial con le varie regole poi qui c'è tipo lo shop se noi ci prendiamo con il tasto destro vedete c'è questa la zappa che sarebbe come un fucile poi c'è la mitragliatrice lancia granate e per finire la macchina mortale quindi ci sono pure le varie tipo di armatura poi le esplosioni di lana credo che siano cubi di lana non lo so comunque in questo servono come delle esplosioni di creeper di varie eccetera e niente comunque questo video lo ricordo che l'ho fatto solamente per black wolf 4316 e black wolf 4316 ti voglio dire che è una cosa che ti ho detto pure prima lo so che tu penserai ma come questo mi fa un video di scuse solamente per me e poi dici e poi mi vedi che sto giocando in questo server sto giocando in questo server per non farlo annoiare gli spettatori che anche se sono pochissimi credo che sarai te l'unico comunque così se in futuro avrò qualche iscritto al mio canale spero pure al tuo digit tu hai 9 iscritti ben 9 iscritti devo dire che sono tanti in confro e pensare che tu hai pure 8 solamente 8 video se non mi sbaglio sono molto contento per te e niente pensare appunto che io sono scemo che non me ne frega niente di te perchè sto giocando ma ti ripeto ancora una volta dopo chiuderò la registrazione che stavo giocando sto facendo pure conoscere questo server dopo che ti ho detto le mie scuse perchè appunto per non farlo annoiare i futuri iscritti se ci saranno spero di si e quindi niente per oggi è tutto ciao ciao ragazzi chiedo ancora per una volta scusa al mio grande e caro amico blackwolf4316 per oggi è tutto ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao